Torniamo alla moto per un attimo, sicuramente avrei avuto dei problemi perché le moto come sappiamo si riparano più facilmente delle macchine però si rompono anche più facilmente delle macchine, com'è andata? Grazie a Dio mio padre è meccanico quindi quando ero piccolino comunque osservavo, mio padre mi faceva un po' lavorare, ho imparato un po' anche quando avevo 14 anni proprio col motorino smanettavo sopra i motori e quindi grazie a Dio mi ha dato un po' di scuola, di una minima base per cavarmela, poi devo dire anche la fortuna e poi se si sta diciamo un po' all'occhio senza maltrattare la moto, se si guida dolcemente comunque la moto dura molto di più, per esempio le gomme se uno guida tranquillo anche perché in viaggio non è che si freni molto, si va a velocità costante quindi le gomme mi sono durate 25.000 km, in città invece si continua a frenare, accelerare, decelerare, si utilizza tutta in più la moto, il cambio, più cambiate, più frenate, invece in viaggio anche ho incontrato altri ragazzi in moto e anche loro si cambiano gomme, freni molto più in là del normale. Quindi insomma hai seguito il motto che c'è nella canzone di Lucio Battisti, si viaggiare evitando le buche più dure. Esatto, qualche volta si prova, ma qualche strada niente, si mette in prima o seconda, si rallenta perché dopo un po' non si possono più evitare le buche. Immagino avessi una tannica di benzina in caso di emergenza oppure hai sempre trovato stazione di servizio? No, no, anche qui in Australia per passare il New Labor, questo deserto che c'è tra il Western Australia e il Sud Australia e abbiamo fatto 30 litri in più del serbatoio, quindi un extra abbastanza vigoroso per le dimensioni della motocicletta e anche nel Pamir che è una strada tra il Tajikistan e l'Afghanistan, praticamente c'è una casa ogni 50 km e niente, la benzina l'ho presa extra nella capitale, adesso non mi ricordo del Kyrgyzstan sinceramente e niente e poi anche non ci sono supermercati, non c'è niente, quindi si bussa a queste case o iurte, che sono le tende che hanno in Asia Centrale per dormire, che sono tipo delle case per il cibo o dormire se non si ha la tenda, si bussa e questa gente è veramente ospitale e tra l'altro è povera e non chiede neanche nulla, non chiede neanche soldi, poi sta ognuno di noi dare qualcosina per aiutare. Mi dicevi prima che iniziassimo a parlare che hai avuto anche delle brutte avventure come ad esempio nelle Filippine dove hai trovato un borseggiatore? Ah sì sì, era molto bravo, nessuno mi aveva mai rubato prima un portafoglio, pensavo che non mi sarebbe mai accaduto, invece questo ragazzo è stato fantastico, me l'ha fatta proprio sotto il naso e niente, sono veramente dei professionisti devo dire, non mi sono accorto dopo, per un tre minuti non mi sono accorto, quando mi sono accorto era già troppo tardi e mi è sparita tutto, patente, carta d'identità, carta di credito e un po' di contanti che tra l'altro il giorno stesso avevo cambiato un po' di soldi. E a quel punto come hai fatto quando ti trovi senza patente, senza documenti, senza una lira? Beh sì, è stato bravo il ragazzo perché mi ha rubato il portafoglio, ma non del tutto completamente perché ne avevo un altro di riserva, avevo già pensato a casa, quindi mi ha rubato diciamo il meno importante e sono sopravvissuto, grazie a Dio. Raccontaci di altri momenti che ti hanno fatto pensare sia in positivo che in negativo, hai già fatto riferimento al periodo sicuramente orribile dell'ospedale quando avevi le patite e quest'altro che ci hai appena narrato nelle Filippine. Ci sono stati altri momenti che non dimenticherai in positivo e in negativo? Ah sì, la gente, quello che non ci si dimentica mai ed è tutta la gente, la bella gente che si incontra durante il viaggio. Secondo me è proprio le persone che fanno un viaggio. Leggevo un libro, I viaggi di Jupiter, che è un motociclista che negli anni 70 ha fatto il giro del mondo, quattro anni, con una moto dell'epoca e leggevo appunto nel suo libro che poi ho ritrovato nel mio viaggio che il viaggio inizia veramente quando ci si ferma la gente, non sulla strada mentre si guida. E qualche momento di riflessione magari davanti a un tramonto, a un'alba, ad un oceano, ad un fiume? Ah sì, diciamo a me piacciono molto di più i panorami e non molto le città dove c'è traffico, mi piace più essere rilassato in mezzo al niente. Infatti ciò che rimane nella mente, nei ricordi, è appunto i magnifici panorami che si vedono, tipo in indonesia il lago Toba Lake, fantastico. Poi non c'è un rumore, ci sente solo il vento al tramonto, è fantastico. Oppure anche qui in Australia è pieno di bellissime spiagge, soprattutto abbiamo visto nel Western Australia, nel Sud, bellissime spiagge mai viste, da cartolina. Ci si siede, rilassa e si ammira la natura. Immagino che te lo abbiano chiesto, gli ascoltatori forse in questo momento si chiederanno, ma i soldi per fare tutta questa impresa, da dove vengono? Hai uno sponsor, hai qualcosa che ti consente di recuperare in qualche modo le spese fatte? Non ho nessuno sponsor, diciamo che non ho molti soldi ma sono molto bravo nel non spenderli, cerco sempre la via meno cara per fare le cose. Niente, in un anno di viaggio quando, prima che arrivasse lì, da solo ho speso 5.800 euro, incluso tutto, visti per 33 paesi, ospedale in India, biglietti per il volo da Bangkok a, no scusa, da Kathmandu a Bangkok, dal traghetto dalla Georgia all'Ucraina, tutto incluso. Cibo, vabbè dormire, non ho quasi speso nulla, 30 dollari. No, si può fare con molti meno soldi di quanta gente pensi. E adesso, dopo questa sosta in Australia, torni a viaggiare con la moto, dove vai? Spediamo la moto in Giappone, invece noi andiamo in Sud Corea, mentre la moto arriverà in Giappone, ci vogliono circa 3 settimane. Abbiamo queste 3 settimane da spendere in Sud Corea, dove ho un amico, un motociclista che ho incontrato in Turkmenistan e siamo rimasti in contatto, praticamente ci lascerà la sua moto per viaggiare per 3 settimane e dopo dal Sud Corea in Giappone, dopo il Giappone in Russia, Russia-Mongolia, forse dopo la Russia al nord dell'Europa e poi si torna in Italia per non si sa quanto. Ecco appunto, hai intenzione di, come si può dire, darti una calmata e cominciare a vivere una vita, fra virgolette, normale oppure ormai hai capito che questa è la tua strada, in tutti i sensi? No, adesso diciamo che devo ricaricare un po' le batterie, quindi a casa secondo me è il posto migliore per ricaricarle, con la mamma e il cibo italiano, che manca molto, quindi dopo qualche mese l'intenzione è di aspettare la primavera e intanto magari lavorare un po' perché hai soldi, seppur poco stanno comunque finendo e quindi bisogna rifarsi un po' le tasche piene. Poi l'idea è, dopo la primavera, di volare in America, ma questa volta senza la mia moto, perché sono un po' stufo di queste spedizioni, documenti e quindi la moto la lascio riposare anche perché avrà fatto un bel 80.000 chilometri, penso, quindi ha già dato e invece ne compreremo una magari di seconda mano negli Stati Uniti che sono molto a buon mercato e poi Stati Uniti, Canada, Alaska e poi si prosegue per il Sud America. Un'ultima domanda Matteo, prima di salutarci abbiamo parlato quasi per mezz'ora ma tutto quello che ci hai raccontato era per me interessante e mi auguro anche per tutti i nostri ascoltatori, molto affascinante e coinvolgente. Hai per caso un sito web, un blog, qualcosa dove chi ci sente in questo momento può imparare qualcosa in più a proposito del tuo viaggio? Sì, avevo iniziato con l'idea di fare un sito e l'avevo fatto, cioè l'avevo fatto, ho comprato il link, ma viaggiando non si ha molto tempo, sembra strano ma non si trova, quindi niente, il sito non si è mai fatto e ho solamente le foto sulla pagina di Facebook che se volete darci un'occhiata si chiama Start Adventures, la pagina di Facebook. Noi ringraziamo sia Lili che è stata con noi oggi, purtroppo molto in silenzio ma questa intervista in italiano e ringraziamo soprattutto Matteo che ci ha raccontato questa sua meravigliosa avventura. Io vorrei ringraziare proprio te Marco per l'intervista, anche l'aiuto prima dell'intervista che mi hai dato per trovarmi qualche contatto in giro per l'Australia, saluto tutti gli ascoltatori e la mamma e la famiglia a casa. Sì, viaggiare Dolcemente viaggiare Rallentando per poi accelerare Con un ritmo puente di vita nel cuore Gentilmente senza strappi al motore Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!